Un'energia di luce, che ogni giorno va in scena con colori, sensazioni e profumi diversi, in uno spazio di nuove emozioni, senza confini. Quella che oggi si respira nell'area della ex fabbrica Molinare di Via Iraghi 30 a Milano è l'energia particolare di un piccolo quartiere abitato da artisti. Vivere in Via Iraghi 30 significa appartenere a questo mondo creativo. La ristrutturazione della residenza, un appartamento di 203 metri quadri, oltre una terrazza verde di 100 metri quadri, ha mantenuto il sapore originario dell'edificio industriale degli anni 40, valorizzando la notevole luminosità con ampi ambienti fluidi. La privacy, l'assoluta silenziosità e la garanzia di sicurezza del luogo, la cura di ogni dettaglio, unita alla ricerca di arredi esclusivi, rendono questa residenza unica nel suo genere. Un luogo nel quale sentirti te stesso. Un luogo nel quale sentirti te stesso.